La mega operazione di restyling urbano, l'operazione di radicale trasformazione della città di Salerno con la realizzazione di diverse opere e la razionalizzazione di altre preesistenti, continua ad essere monca di impiantistica sportiva. Nel ventennio del Lucchiano ed anche oltre si è sempre fatto poco, troppo poco, quasi niente per lo sport. Idee, progetti, iniziative rimaste tali solo sulla carta, al massimo cominciate come ad esempio il Palasporti via Allende e mai completate. Nel frattempo Salerno da questo punto di vista si è impoverita, ha fatto registrare un vistoso regresso posizionandosi tra gli ultimi posti della speciale classifica nazionale che premia le città più virtuose in quanto a strutture sportive. C'è, è vero, una certa effervescenza tra i privati, i centri di fitness, bodybuilding e affini fioriscono un po' dovunque, ma è altra cosa, altro business. Sotto questo aspetto l'azione della macchina progressista ha lasciato molto a desiderare, scarsa attenzione per non dire inesistente nei confronti di realtà sportive che pure svolgono sul territorio un'azione sociale meritoria. In qualche caso si è ovviato, ma per meri fini propagandistici, alla realizzazione e al taglio del nastro di mini strutture di quartiere, per lo più campi di calcio a cinque, meteore, specchietti per le allodole, ma nulla di veramente utile, funzionale alla nobile causa. Tutto allora è affidato all'iniziativa di privati generosi, forse lungimiranti, sicuramente coraggiosi e ambiziosi, che devono però fare i conti con una burocrazia che mai come in questo caso diventa spigolosissima. Forse per questo il megaprogetto di rinascita del Palasport, immaginato da Tobia Scarpa, è da tempo fermo al palo ed è già ai titoli di coda, nonostante la benedizione di Malagò, l'impegno totale di Nello Talento e la passione dei progettisti. Quasi definitivamente accantonato il progetto di finanza, quasi deposto, il sogno di vedere alla luce una struttura sportiva moderna e funzionale di fianco alla Reiki, rassegnati all'idea di continuare a contemplare la scheletro di un impianto sbagliato già nella sua concezione originaria, si sta facendo all'orizzonte un'altra ipotesi, forse più percorribile e che ha nel patron della Virtus Reiki squadra di basket, l'imprenditore di Sarno Nello Rezzullo, il suo promotore. Allo studio ci sarebbe la realizzazione di un impianto polivalente, capiezza intorno ai 1500 spettatori, con capitali completamente privati, che dovrebbe nascere nei pressi di Mariconda, nelle vicinanze della tangenziale di Salerno. Sul punto intanto, in generale, sulla carenza di impianti sportivi nella città di Salerno, il governatore ed ex sindaco De Luca ammette una carenza di azioni amministrativa. Diamo le risorse necessarie per fare 100 interventi in tutti i quartieri, strade, pubblica illuminazione, reti fognarie, da Sala Bagnano a Pastorano, ai Lioni Collinari, a Mariconda. Veramente si apre una bella stagione di riqualificazione della città, ma anche di lavoro, perché un miliardo di opere nella città significa anche lavoro e cantieri che si apre. Abbiamo qualche proposta. Io mi auguro che l'amministrazione è un po' stringa anche sul palazzetto dello sport. Sapete che questa è l'unica grande opera che è rimasta al palo, perché sono fallite le due imprese che lavoravano. Non siamo stati fortunati. Credo che ci sia qualche società privata, qualche raggruppamento privato che può contare anche sul credito sportivo e si candida a completare quell'intervento. Io sono molto favorevole a che si dia respiro anche a qualche investitore privato. Per il resto noi abbiamo approfittato delle risorse delle universiadi per finanziare anche lo stadio Arechi e portare a Salerno il torneo di calcio nell'ambito delle universiadi. Quindi finanziamo la ristrutturazione dell'Arechi, cambiamo i seggiorini, rifacciamo l'impianto elettrico. Insomma, un bel intervento di ammodernamento del nostro stadio.